Attraverso il diritto, attraverso lo studio delle parole italiane, capiamo che l'eredità a Longobarda è grandiosa, basti pensare alle parole come ricco, biacca, bara, stinco, staffa, spranga. L'elenco è veramente lungo, anche qui in Abruzzo abbiamo dei toponimi di chiara origine Longobarda, sculcola, da sculc guardia, o fara, fara San Martino, fara figlio Rompetri, da Faren, viaggio, cioè luogo dove si arrivava dopo un viaggio. Chiaramente la conquista Longobarda dell'Italia è molto progressiva, fatta di avanzamenti e di arretramenti ed è una lotta continua con i cosiddetti bizantini. Ricordo sempre che i bizantini non si autochiamavano così, è un termine che veniva coniato a fine Seicento dallo storico francese Ducamish, loro si chiamavano Romei. Quindi c'era questa contrapposizione tra continuazione dell'antico impero romano, i bizantini, lo ricordiamo, avevano ripreso l'Italia con Giustiniano, e i Longobardi che avanzavano pretendendo di essere re d'Italia. Su Pescara ci sono alcune curiosità storiche, Marco Perletta ce ne parla, dei falsi storici, qualcosa, insomma, costruito a posteriori. Certo, è evidente la somiglianza tra la chiesa di Sant'Antonio, che sorge al termine di via Regina Elena, con la chiesa, la basilica di San Michele Maggiore a Pavia, dove tradizionalmente avvenivano le incoronazioni dei re d'Italia. Poi un'altra curiosità molto importante, secondo me, è che Pescara, denominata Piscaria, e sorge qui il dubbio se possa essere peschiera, compare in una pergamena purpurea bellissima a carattere oro, custodita nella biblioteca della città tedesca di Wolfenbüten, dove Ottone II elenca tutti i beni, detti Morgengabe, cioè dono del mattino, che faceva alla futura consorte Teofano, principessa bizantina.